ciao a tutti oggi prepareremo le farfalle cremose con pomodorini e crescenza il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa ingredienti sono farfalle crescenza olio evo pomodorini tagliati a cubetti aglio basilico sale e pepe andiamo in via la ricetta cuocere la pasta in abbondante acqua salata mettere nel boccale lo spicchio d'aglio e l'olio ed azioniamo il bimbi per quattro minuti 120 gradi velocità 1 togliere l'aglio aggiungere i pomodorini il sale il pepe e il basilico e li facciamo cuocere per 10 minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere il bimbi aggiungere la crescenza ed azionare il bimbi per 5 minuti 100 gradi anti orario velocità 1 il condimento è pronto scoliamo la pasta versiamolo sulla pasta a mantecare bene e servire farfalle cremose con pomodorini e crescenza grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti Grazie per la visione!